Allora, domani un accadimento importante nella città di Caltagirona, arriva la Madonna di Fatima. Fatima quest'anno celebra il centenario dell'apparizione della Madonna. Fatima appare nel 1916 ai Tre Pastorelli, tutta la vicenda non ve la racconto, certamente devozionalmente ho visto un documentario mandato in onda da Tvrxeno nei giorni di Pasqua dove era su Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II era molto devoto alla Madonna di Fatima al punto che il proiettile di Aliyah Jacques che lo ferì in piazza San Pietro, questo stesso proiettile, lo stesso Santo Padre, oggi il Beato Giovanni Paolo II, volle incastonarlo nella corona della Madonna di Fatima. Ecco, domani la copia della Madonna di Fatima che è in pellegrinazio in tutto il mondo e in tutta Italia, farà un passaggio da Caltagirone. Domani venerdì 1 aprile alle 11 arriva nella chiesa di Sant'Anna. Per parlare di questo accadimento ne parliamo con Don Francesco Di Stefano, buonasera grazie di essere qui con noi, rettore della chiesa della Basilica del Santuario della Madonna Maria Santissima del Ponte. È uno specializzato, come si chiama? Mariologia. Mariologia. Non è un mariolo, è mariologia, è la cosa più nobile che studia appunto la Madonna in tutte le sue declinazioni che gli dà la chiesa cattolica. Padre Francesco, allora, domani questo importante accadimento, io ho voluto ricordare, ma perché proprio qualche giorno fa la nostra emittente ha messo in onda questo documentario su Giovanni Paolo II e larga parte era dedicata a quello che ha vissuto Fatima, perché il terzo segreto di Fatima pare che coinvolcesse un santo padre, pare che il santo padre, appunto, quella veste bianca insanguinata fosse quella di Giovanni Paolo II. Mi viene da perle donga, però questo si tratta. Ho voluto collegarlo, non so se ho fatto bene o male, però va benissimo così. Fatima, noi oggi quest'anno ricordiamo il centenario delle apparizioni all'angelo e il prossimo anno, 1917-2017, ricorderemo il centenario dell'apparizione. Non è il 1916, ci furono delle apparizioni di un angelo per tre volte e quindi siamo in questa fase. Ce n'è una nel 1916? 16, sì, che fu avvenuta questi tre pastorelli e poi quella della Madonna che avvenne il 13 maggio del 1917 fino a ottobre del 1917 ogni 13 del mese. Perché la Madonna di Fatima a Caltagirone? Perché l'Unitalsi, che è questa associazione nazionale che trasporta gli ammalati all'URD e nei santuari internazionali, tra cui Fatima, vuole ricordare questo avvenimento e ha chiesto al santuario di Fatima una copia, una delle nove copie che girano il mondo della Madonna di Fatima, che potesse fare tappa in Sicilia in tutte le sottosezioni. E Caltagirone, avendo una sottosezione dell'Unitalsi, domani accoglierà questa statuetta della Madonna di Fatima per neanche 24 ore. È simbolico il passaggio perché domani mattina la andremo a prendere a Catania e poi dopo domani sarà ritirata su Ragusa. Quindi 24 ore in ogni sottosezione dell'Unitalsi. E domani mattina alle 11 arriverà a Sant'Anna, poi ci sarà una celebrazione eucaristica di accoglienza. Nel pomeriggio un Santo Rosario alle 17 con gli ammalati dell'Unitalsi e poi in processione alle 18 porteremmo la statua della Madonna di Fatima al santuario di Ocesano. Quest'anno anche santuario giubilare e quindi lì farà questa sosta per l'intera notte e all'arrivo della Madonnina il Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri, celebrerà l'Eucarestia. Tutta la serata sarà aperto il santuario per la venerazione dei fedeli fino a tardanotte. Alle 21.30 ci sarà una speciale veglia mariana ricordando il messaggio di Fatima che già questa sera in una catechesi ho presentato a Sant'Anna con alcune sottolineature del messaggio e soprattutto anche dei segreti. E poi giorno 2, sabato mattina alle 8 del mattino ci sarà la celebrazione eucaristica di conclusione di questa breve visita della Madonna e andrà a Ragusa per continuare questa pellegrinazio. L'introduzione che ha fatto lei direttore certamente è interessante perché Fatima diventa una delle apparizioni più interessanti di tutta la storia della Chiesa perché oltre al messaggio di penitenza che accomuna tutte le apparizioni mariane, anche quella di Caltaginone della Madonna del Ponte, quella di Fatima è stata suggestiva per i segreti, per questi tre segreti o meglio l'unico segreto diviso in tre parti dove l'ultimo si è poi attuato in quell'attentato del 13 maggio del 1981. Sempre il 13 maggio. 13 maggio. Non era stato rivelato sia i tutti i papi, prima a leggerlo fu Giovanni XXIII, il secondo Paolo VI. La richiusero e lo conservò. Anche Paolo VI fece la stessa cosa. Giovanni Paolo II non l'aveva voluto leggere e quando subito dopo l'attentato appena letto capì cosa era successo. Ecco una mano materna, lui dice Giovanni Paolo II, vengono i brividi anche a raccontare questo appanimento perché una mano materna deviò quel proiettile che era arrivato alla Horta. Quel proiettile che poi Giovanni Paolo II, recandosi a Fatima, l'anno successivo, volle incastonare nella corona della Madonna. Io pregherei così, chi cure il palinzesto della nostra emittente, se potesse in queste ore rimettere in onda questo documentario che abbiamo già avuto modo di apprezzare nel corso della Settimana Santa dedicato a Giovanni Paolo II, dove ci sono tutti questi passaggi del legame di Giovanni Paolo II alla Madonna, nel particolare tutti gli accadimenti che hanno segnato questo legame con la Madonna di Fatima, dall'attentato al ricovero in ospedale, alla visita a Fatima. A Fatima, va tutto il novecento. Se la programmazione può metterlo in onda non sarebbe male in queste ore che la città di Caltagirone vive questo fatto storico dell'arrivo della Madonna di Fatima a Caltagirone. Ripeto, il primo aprile e lascerà la nostra città poi il 2 per recarsi a Ragusa, dove sosterà ancora al 24 ore. Sta correndo, poverina. Sì, perché deve raggiungere tutto il mondo. A condendare tutti, diciamo. Tutto il mondo, quindi ecco queste nuove copie un pochettino girano. Certamente la Fatima, come dicevo, colpisce tutto il novecento, perché avviene in un periodo storico particolare. La Madonna chiede la consagrazione della Russia. Siamo nel 1917, prima guerra mondiale e poi la rivoluzione russa del 1917, l'ottobre, il famoso ottobre. Si afferma l'ateismo. E allora proprio Maria vuole la consagrazione del mondo al cuore immacolato suo perché lo possa presentare al Signore. Poi la seconda parte del messaggio che ricorda e quasi preannuncia la seconda guerra mondiale che poi avverrà, questo spargimento di sangue a livello mondiale e poi l'attentato al Papa. E quindi è anche questo Papa che cammina in mezzo a tanti morti. Il novecento è stato il secolo con più martiri cristiani. Neanche i primi secoli. Noi ricordiamo i grandi santi, Sant'Agata, Santa Lucia come grandi martiri, ma i tanti martiri come il novecento la Chiesa non l'aveva mai contati. E anche oggi. L'attentato del Pakistan di qualche giorno fa. Anche oggi. Ancora oggi ecco questo sangue cristiano ecco fortifica il cammino della Chiesa e speriamo che veramente il cuore dell'uomo anche dinanzi a questi fatti così forti possa essere toccato e possa cambiare. Ecco la conversione che chiede la Madonna a Fatima che chiede in tutti i posti. E siamo anche nell'anno della misericordia. Siamo nell'ottava di Pasqua, nell'unico giorno di Pasqua. Che questo segno per Caltagirone, questo passaggio così veloce del messaggio di Fatima, perché la statuetta ci ricorda anche questo messaggio forte, che Caltagirone in questo momento storico possa veramente accogliere e farlo proprio. Per un cambiamento, per una conversione e per accogliere il messaggio della misericordia di questo giubileo e di questo anno speciale del bicentenario della nostra Chiesa diocesana. Va bene, allora ricordiamo domani venerdì primo aprile alle 11 nella Chiesa di Sant'Anna e poi arriva la Madonna di Fatima, ci saranno delle celebrazioni, poi nel pomeriggio alle 17 se non vado a fare. Alle 17 ci sarà la recita del Rosario. Diciamo che la Madonna di Fatima con l'apparizione raccomandava proprio la recita del Rosario. Il Rosario è la cosa più pregnante, più immediata. E la sprechiera dei poveri di tutti. Quindi ci sarà la recita del Rosario e quindi in processione dalla Chiesa di Sant'Anna verso il santuario della Madonna del Ponte, dove c'è la seconda porta santa della misericordia che appunto per chi la attraversa può avere le grazie giubilari. Un percorso questo qui processionale che molto spesso, ormai l'ho stato rodaggiando con Padre Abbotto, non solo la via Crucis ma anche Fatima, ma mi pare che prima c'è stato pure un altro passaggio processionale. Allora, è per collegare anche la città nuova alla città vecchia. È un percorso anche voluto come... In prospettiva ci sarà ancora incendivazione su questo percorso. Sì, proprio perché Sant'Anna diventa il segno della città nuova, dell'inizio della città nuova. E così è stato. E quindi il santuario del Ponte è l'inizio del centro storico perché ha valle e sono le due parrocchie più vicine. Ma l'arrivo l'abbiamo voluto anche fare al santuario diocesano proprio perché Maria lì ha voluto dare il suo volto e quindi noi a Caltagirone per noi il luogo mariano per eccellenza. Quindi poi la conclusione domani sei alle ore 21. Alle 19 il Vescovo celebra... Alle 19 la celebrazione egoristica di Sua Eccellenza il Vescovo. Alle 21.30 una veglia. La veglia che sarà una specie di flambeau. Prova a immaginare che sarà una piccola Fatima diciamo. Volevamo un pochettino riportare Fatima al ponte. E poi fino a tarda ora il santuario rimarrà aperto. Invito tutti anche a fare un passaggio, a passare la Porta Santa e quindi venire al santuario. E poi domani mattina ecco alla messa alle 8 e lì daremo il saluto ma il messaggio lo vogliamo tenere per noi. Saluteremo la statuetta della Madonna che andrà a Ragusa ma il messaggio lo faremo nostro. Bene, grazie a padre Francesco Di Stefano, rettore del santuario Mariano Diocesano, Maria Santissima del Ponte. Grazie di questa comunicazione saremo certamente presenti voi devozionalmente ma anche per curiosità per vedere e respirare quest'aria di Fatima che per 24 ore, più o meno, anzi meno di 24 ore, impregnerà la città di Caltageno nelle comunità parrocchiali principalmente di Sant'Anne e della Madonna del Ponte. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi. Chiudiamo questa trasmissione, vi ringrazio la cortesa attenzione, l'appuntamento domani sera a venerdì 1 aprile alle ore 21 e 15 sempre in diretta con Stasera Con. State con noi, ci rivediamo prossimamente, buona serata. Grazie a tutti.